Non può pensare di fare ciò che vuole con noi, come domani che ci sono molti pochi suggeriti, ma la provincia di Consiglione sarà di una amabilità, di un'altra stessa, non permetterà nessun modo, faremo le barricate, ma non permetterà nessun po' le fasce addosso, faremo le barricate, non sarà mai ripreso a nessuno di costarci molti, ma fino a nostro lontano. Quanti sono qui interessati? Molti. L'amera di Valverdini, già ogni giorno, il spiato che dice, non funziona, non funziona, non funziona, non funziona, perché già ogni giorno noi moriamo per la forza enorme che c'è in queste zone. Siamo decine, decine di comuni, coinvolgeremo anche tutti i comuni della provincia di Consiglione, sarà anche la provincia stessa di Consiglione che dovrà, con il nuovo presidente della provincia, muoversi in maniera forte su questo problema. Grazie, sindaco. Grazie, grazie. Sindaco, è stato costituito dal vostro comune un registro di tumori delle malattie derivanti dalle discariche? Sarà istituito più presto un registro dei tumori e delle altre malattie derivanti dalle discariche, perché è anche questo importante per vedere dal punto di vista epidemiologico cosa succede nelle nostre zone. E' un altro problema. Allora, lei parlava prima di mettersi la fascia e quindi stare davanti alle discariche, quindi un altro blocco sulle discariche. Se il prefetto manda la polizia? Se il prefetto manda la polizia, ci confronteremo con la polizia in maniera lecita e legale, perché comunque noi abbiamo i nostri diritti e i nostri diritti vanno difetti. E se ci saranno persone, i comitati magari che verranno denunciati, questi sindaci che si sono messi la fascia, poi prenderanno le difese di queste persone? Certo, saremo in difesa di queste persone, ma non ci sarà il problema, perché nessuno vorrà commettere i reati, nessuno commetterà nessun reato. Sono previste anche manifestazioni a Roma e alla Regione Lazio? Anche, anche, mi sono messi, anche manifestazioni a Roma, certo. Quindi verranno coinvolte anche altri comuni, a cominciare da Sora, Frosinoni, Sovalini? Sì, anche la polizia Frosinoni devono essere coinvolti in questa battaglia, chiaro. Ok.